guarda questi sono i canali i canali top in italia di gambling che sono rimasti mike slot real malato del napoli non lo conosco upepe ciliegine ricetto ciliegine bruco ciliegine ice pin ciliegine invirgi pure lei penso faccio uno lo so lei non lo so non sono sicuro maiolex ciliegine gabriel giostar ciliegine questi qua tutti ciliegine ciliegine vrat mio fratello non usa le ciliegine purple monkey ciliegine igor ciliegine questi qua tutti ciliegine ciliegine insomma tutte ciliegine ragazzi uno due tre ne sono rimasti di canale che giocano real chi è rimasto che gioca real mike slot che sono sicuro che giochi real eh mike slot seo e tyler e vrat marco dio guarda questi qua non sono in fondo sti cazzi no tyler gioca real dico facciamo prima a dire quelli che giocano real perché ormai giocano tutti con le ciliegine porco dio cioè questo è il problema è questo il problema porco del dinci stronzo ma tu come fai a sapere se giocano real gab una domanda raff beh alcuni li viene a sapere alcuni te lo dicono alcuni lo noti alcuni lo sai cioè nel senso le offerte le proposte cioè tutte ste robe qua che questa gente magari accettato sono robe che sono arrivate anche prima da me quindi so già benissimo cosa di cosa si tratta poi la maggior parte tutta gente che sponsorizza punto com e gioca saldo non real sui punto com quindi figuriamoci ci stiamo parlando proprio della feccia della feccia ma perché te hanno bannato hai già provato a recuperare il profilo? sì cioè non ancora del tutto non ancora del tutto purtroppo sì il bruco a me è dispiaciuto io gli ho detto sempre al bruco cioè da amico io l'ho fatto io ho fatto sto discorso mille volte lui ha intrapreso un percorso che io non condivido obiettivamente e quindi non lo voglio cioè onestamente non lo voglio neanche in live troppo capite anche se è mio amico eh cioè poi alla fine lo faccio entrare comunque ogni sera però cioè come tant'altra gente la voglio tenere distante anche lui deve capire che se per un motivo o per un altro non faccio troppe live con lui è perché è capito johnny a me spiace perché c'ha il mio alert tutta la mia community insomma tutta la mia community come voglio dire quattro qualcuno comunque c'è molta gente della mia community è lì no cioè io più che altro l'ho sempre detto uno streamer in primis lo devi seguire perché è lo streamer e perché tu vuoi seguire lo streamer e sei affezionato allo streamer poi successivamente tutto il resto capite però cioè io mi ha io veramente mi ha poi me ne rendo conto che anche io ero seguito molto molto solamente per il gambling però però il problema è che poi alla fine quello è un pubblico volatile lo si vede col tempo cioè il gambling non è un pubblico real o ti costruisci un qualcosa a prescindere o se ti metti a giocare a fa gambling che pubblico ti vuoi costruire cioè è difficile che poi rimanga tanto nel tempo difficile ragazzi no bruco è un bravo ragazzo è un bravo amico io gli voglio bene al bruco eh non posso dirgli niente gli voglio più che bene però è normale cioè dal punto di vista lavorativo io ho preso anche delle scelte altra gente hanno prese delle altre e e io comunque voglio non dico tutelarmi lavorativamente perché ormai ho buttato tutto nel cesso probabilmente mi arresteranno comunque però voglio comunque almeno avete capito